Ciao a tutti, mi chiamo Arianna, sono mamma di tre ragazzi, Alessandro, Mattia e il piccolo Emanuele. Ho un profilo Instagram dove condivido la mia vita da mamma, ma non solo. Se volete mi trovate qui, la Rimora. Oggi però sono qui tra le amiche delle Sempiterne, vicino al mio albero di Natale, per condividere con voi una bellissima iniziativa di Asso Giocattoli. A me loro hanno scaldato il cuore, spero di riuscire a fare lo stesso con questo video. Buon Natale a tutti! È stato un anno particolare, diverso. I bambini sono stati i nostri piccoli grandi eroi. Non esiste al mondo un bimbo che quest'anno non sia stato buono. Per questo motivo Asso Giocattoli fa un appello a tutti noi. Sarà un Natale che sicuramente ricorderemo. Rendiamolo speciale. Babbo Natale non si ferma, non può, non deve. Portiamo la magia nelle nostre case. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Grazie a tutti.